Grayscale sarà il prossimo cigno nero delle cripto, ma è un po' di giorni ragazzi che girano queste voci, vi faccio vedere un po' alcuni giornali che stanno già pubblicando una serie di dati, vero o non vero? Allora ci sono una serie di questioni da andare a visualizzare e soprattutto dipende da un discorso, cioè da questo grafico qui, cioè il grafico ragazzi che è quello del Grayscale Bitcoin Trust che è crollato, insomma a picco, ben al di sotto della valorizzazione dei suoi Bitcoin che ha in portafoglio come NAB e quindi teoricamente va a sconto di oltre il 50%. Ne parliamo comunque in questo video, vediamo i rischi che ci sono, vediamo anche un po' la questione di FTX che qualcosina si è mossa, hanno pubblicato i curatori fallimentari, John Ray III ha pubblicato una serie di dati e soprattutto alcune informazioni che secondo me non sono da sottovalutare relative alle società controllate di FTX che sono tutte solventi, ha detto ma ne parliamo tra un po' e quindi è una cosa interessante. Ci sono stati anche delle news particolarmente rilevanti da parte di Vitalik Buterin che ha indicato una strada per dare la proof of solvency e questa cosa tra le, insomma è molto interessante ragazzi perché non l'ha chiamata proof of reserve. In effetti come vi dicevo la volta scorsa c'è una differenza tra avere la riserva ed essere solventi, sono due cose diverse, un leggermente diversi però in maniera corretta giustamente Vitalik ha indicato la proof of solvency. Sarà un meccanismo che alcuni exchange seguiranno, io però vi dico un po' la mia anche su questo, anzi inizierei proprio da questo ma prima di iniziare a questa cosa qui io ragazzi vi devo dare una super news, non è vero, la sapete tutti. Domani facciamo il webinar 22 di novembre alle ore 18, c'è il webinar totalmente dedicato a trader quindi solo trading in questo caso ragazzi. Crypto trading intrate con una delle mie strategie che vi svelo che è una strategia che ho utilizzato per vincere il contest di trading ahimè sulla ormai defunto FTX ma non conta l'exchange, conta la strategia ovviamente. E ragazzi vi spiego un po' quello che ho combinato in quel tipo di, con questa strategia, vi darò un po' delle dritte sostanzialmente perché ho registrato un super modulo di oltre tre ore dedicato proprio a questa strategia che ho messo nel corso basic. E quindi in questo webinar parleremo un po' delle fondamentali di questa strategia, non sarà possibile ovviamente esplicitarla tutta perché è molto complessa ovviamente, però ragazzi un po' delle linee guida ve le do. E poi ci sono ovviamente tutte le promo del bel friday che parte proprio quello di trading on nella giornata di domani, quindi non ve la perdete a soprattutto se siete estremamente interessati alla formazione e a come agire sui mercati perché ci sono delle novità estremamente importanti anche sul modulo di come gestire il portafoglio delle cripto. Delle novità ragazzi che sono secondo me imprescindibili, io lo dico così, però voi sapete come batto il chiodo sulla formazione, può sembrare un conflitto di interesse, ma non è così perché io alle spalle ho decine e decine di anni di formazione e quindi io la penso così a prescindere. Però domani vi aspetto e tra l'altro siete veramente tantissimi, io non mi aspettavo ragazzi in una fase del genere, tanti iscritti, io sono molto contento e quindi ho deciso che stasera, appena finisco questo video, continuo a lavorare su Quest's Drive perché voglio aggiungere anche qualche chicca in più perché veramente ragazzi siete tantissimi, è un numero praticamente top, è esagerato, cioè è il più alto il numero di iscritti che ho avuto in una situazione di mercato di questo tipo. Quindi grazie, non posso che dirvi grazie, vabbè andiamo a noi al video del giorno, il link in descrizione ovviamente del webinar ragazzi. Ah poi questa è una domanda, scusate che mi fate sempre la registrazione ci sarà, per gli iscritti la riceverete quindi potrete rivedere la registrazione, non sarà pubblico invece su YouTube anche perché è un contenuto tecnico, proprio tecnico tecnico. Se siete neofiti, giocherà un po' un tantino difficile, troverete difficoltà, ve lo dico ragazzi perché non è una strategia per neofiti. Però ben venga, insomma no, iniziare da qualche parte. Va bene, andiamo alla questione che vi volevo dire intanto sul discorso di Grayscale. Grayscale. Ok però ragazzi, prima di andare a parlare di Grayscale parliamo della questione del Proof of Solvency. Volevo darvi giusto un'opinione, poi vediamo anche i grafici ragazzi, vi faccio vedere Bitcoin. Un po' sta perdendo soprattutto Ethereum. Allora, è la Proof of Solvency, abbiamo affrontato, è la seconda volta che affrontiamo, uno grande disastro nel settore delle crypto, il primo tantissimi anni fa con Mongox, però era un mercato immaturo, difficile, un mercato che comunque era ballerino, fatto di pochi stakeholder, di pochi personaggi e quindi ci poteva stare. Questa invece di FTX è un disastro perché ragazzi, anche nelle ultime pubblicazioni che hanno fatto tutti i fondi che avevano investito dei soldi su FTX, quindi fondi con due bolts così, proprio gigantesche, indicavano come fosse totalmente impossibile risalire a una fraude del genere, che solo una fraude avrebbe permesso un crollo di questo tipo, perché non c'era nessun altro modo, come vi avevo spiegato mille e mille volte, a meno da analista insomma ragazzi, io ragiono sempre da analista e questo era. Però questo evento è un evento catastrofico che però ragazzi potrebbe anche poi risultare nel medio lungo periodo per questo settore positivo qualora proprio venisse implementata una Proof of Solvency in maniera definitiva. Cioè immaginate una cosa del genere, immaginate di poter avere una Proof of Solvency che risolve per sempre la problematica di affidabilità di un exchange, che poi potrebbe essere anche seguita magari da una SEFI, che poi potrebbe essere anche seguita magari da un'altra tipologia di servizio, una particolare SEFI, non lo so, qualsiasi cosa in riguardo. Cosa succede ragazzi? Succede che intanto sarebbe la prima volta che in un mondo di natura a stampo finanziario tecnico si riesce a sapere con certezza la presenza di questi fondi in maniera totalmente trasparente, perché questa informazione non solo non c'è nelle cripto ragazzi, non c'è nemmeno nei fondi dell'old economy, è assolutamente in nessun modo nelle banche. Perché per quanto si possa indicare che nelle banche hanno nei bilanci, i bilanci poi li tuffano e quindi, cioè, li falsificano e quindi rifanno il SAM della situazione, no? Quindi la Proof of Solvency invece è senza la fiducia, cioè noi abbiamo in quel caso un dato oggettivo di cui non ci dobbiamo fidare, esiste perché la blockchain ce lo garantisce. Quindi se per caso questo evento drammatico di FTX sfocerà nella creazione che per la prima volta di una Proof of Solvency oggettiva, che non ha bisogno di giochini, che può essere immutabile, immodificabile, noi creeremo uno standard per l'intero pianeta per la prima volta nel settore delle cripto, dovuto proprio al fatto che sarà dimostrabile che lì il rischio non c'è più. E questo ragazzi, la dice lunga questa cosa qui, perché vi ripeto, neanche un titolo di Stato ha una cosa del genere. Quindi sarebbe un evento che porterebbe l'intero settore delle cripto avanti anni luce e sul quale ricostruire un po' tutto il macello che hanno fatto proprio questi signori qui. Vabbè, detto questo, manfrina, andiamo, se no non finiamo più se facciamo sempre video lunghi, andiamo alla questione Grayscale, che secondo me è molto interessante. Allora, nell'articolo di Cointelegraph trovate una serie di informazioni, magari se me lo ricordo, a volte li dimentico, ve lo linko nel video, ma sostanzialmente il problema di GBTC è che hanno un quantitativo di Bitcoin spaventoso ragazzi, 630, non mi riesco, ecco, eccoli qui. Detengono 648.000 Bitcoin, un livello proprio elevatissimo, ma tra le altre cose il suo prezzo però per la prima volta è sceso al 50% inferiore al valore dei Bitcoin in pancia. Questo significa che se noi compriamo Grayscale, lo stocks, quindi il titolo, e teoricamente un domani ritorna al suo valore di NAV, noi all'attuale situazione senza un rialzo di Bitcoin avremmo contenuto il 50%, è una cifra enorme. Perché allora questa azienda sta quotando il 50% in meno? Perché intanto non è liquidabile questo fondo, ci sono una serie di questioni legate a questo fondo, secondariamente, almeno così si dice sulla carta, il fondo in questione, essendo un fondo dedicato agli istituzionali, ha una poca, poco marketing, c'è poca richiesta da parte degli istituzionali di acquistare Bitcoin attraverso Grayscale, anche perché gli istituzionali ormai possono anche comprarlo direttamente attraverso altri strumenti, quindi forse questo tipo di strumento che magari è stato molto utile negli anni passati adesso sta un po' perdendo la sua utilità. In sostanza c'è meno domanda rispetto all'offerta dello strumento e quindi lo strumento va a sconto. Questo ci può stare a meno che ancora una volta su questo strumento non ci sia lo zampino di qualche imbroglietto e qualche cosettina che magari gli istituzionali sanno e non sappiamo noi retail. Allora questa è l'ennesima cosa, ovviamente nessuno ha il Grayscale, ma il problema è l'evento Tornado Tsunami che avrebbe una cosa del genere sul prezzo proprio di Bitcoin, crypto magari seguiranno, però in realtà questo è proprio un Tornado su Bitcoin, uno Tsunami che avverrebbe, qualora appunto questo fondo dovesse eliminare i suoi Bitcoin, iniziandoli a vendere perché semplicemente non ha più motivo di tenerli. Ci sono diversi punti che vanno analizzati ragazzi, allora sostanzialmente loro hanno un guadagno dall'avere questi Bitcoin e poi andarli a piazzare e anche con uno sconto del genere comunque questi guadagni sono gestibili, ora non mi dilungo su questa cosa, però qual è la questione su cui volevo farvi riflettere? Che è arrivata a un certo punto Grayscale potrebbe decidere semplicemente di ridurre la forchetta che c'è di sconto tra i Bitcoin in pancia e il prezzo delle sue azioni e quindi sostanzialmente potrebbe dire io vendo un po' di quei Bitcoin che ho in pancia in maniera tale che adesso che ho una differenza a sconto del 50% è troppa la riporto magari al 30-35% che magari può essere adeguato per loro per non rischiare troppo se il prezzo di Bitcoin scende visto che in questo momento magari sarebbero un po' più esposti. Allora questo è un evento che secondo me potremmo valutare come plausibile, cioè il fatto che loro di quei 600 e passa Bitcoin, 643-48 mila Bitcoin, ne possono vendere un centinaio, un 50 mila, va bene? Che comunque non sono cifre basse ragazzi in un mercato di questo tipo, però con un'attenta valutazione, un'attenta liquidazione di questi Bitcoin non è che andrebbero poi a spostare il mercato perché scemi non sono, andrebbero a venderli tutti insieme, magari se li piazzano OTC neanche ci vanno sul mercato e fine dei giochi. Quindi in sostanza se nonno ha giochini arabi anche questa sotto banco insieme come quelli di Sam è difficile insomma che vada a fallire. Ora proprio Coinbase pochissimi minuti fa ha dichiarato che comunque loro possiedono 635 mila Bitcoin di Grayscale nei loro Cold Wallet, quindi in custody. Ciò significa che a questo punto noi dobbiamo, ci fidiamo di Grayscale, però in questo momento ci sono due strutture di cui possiamo fidarci, una Grayscale e l'altra anche Coinbase, quindi sono doppia faccia, o inventano entrambi oppure no, perché Grayscale non ha voluto fare la proof o reserve per questioni di sicurezza, però Coinbase ha detto ce li ho io. Ora è vero, non è vero, non li hanno questi Bitcoin, li hanno dampati e stanno fraudando anche loro come Sam, purtroppo qui non c'è nessuno che ci può dare una grande informazione, io vi ho detto quello che sono i rischi, ovviamente nessuno ha Grayscale probabilmente di noi, i rischi sono che se vanno in fallimento o dampano tutti i Bitcoin che hanno in una curatella fallimentare sono una cifra improponibile, perciò sarebbe un disastro senza limiti e senza precedenti, non credo che sarà così, almeno anche abbiamo la parola di Coinbase, quindi la vedo difficile, valutiamola comunque, la vendita invece di qualche pezzettino di Bitcoin, magari qualche, sì, questo potrebbe avvenire. In ogni caso ragazzi, nulla vieta di GBTC, andate a trattare questa stocks, perché anche un'eventuale inversione di trend di questa azienda, di questa stock potrebbe essere tranquillamente trattata long, perché intanto sono a sconto del 50%, questo significa anche che se per caso Bitcoin dovesse ritornare oggi i capelli folli oggi, se dovesse ritornare a salire magari torna a salire anche questa, insomma, se inverte il trend, seguiamo un trend, ovviamente non compriamo un barri di follia totale, quindi ve lo continuo a ripetere, lo comprerai, però se inverte magari la valutiamo, perché no, potrebbe essere anche un segnale interessante. Va bene, allora, fatta questa carrellata di una serie di news che ritengo fondamentali, ragazzi vi faccio vedere la curatela fallimentare di FTX, che cosa ha tirato fuori, discutiamo anche di questo, che è un argomento interessante, poi ci spostiamo velocemente ai grafici, tanto non abbiamo molto da dire lì, perché Bitcoin e Ethereum stanno facendo le stesse cose, che ci aspettavamo alla conclusione di un ciclo settimanale, ma ne parliamo tra poco. Allora, qui è uscito su FTX Official di Twitter una serie di dati con la questione legata al fatto che hanno avviato tutte le pratiche relative alla curatela e vogliono incaricare un'azienda esterna di fare tutti, insomma, le questioni e si va davanti alla corte per l'approvazione di questa azienda esterna eccetera, per la liquidazione di FTX. Ora, c'è qualcosa che però hanno indicato, ragazzi, cioè il fatto che moltissime delle società controllate di FTX, hanno tante, ragazzi, FTX è un colosso gigantesco, cioè solo un folle poteva far fallire una cosa del genere, perché, diceva, un casino praticamente, come ho fatto, mi taglio i capelli perché così non ci assomiglierò mai più. Una cosa incredibile, ragazzi, una cosa incredibile. Vabbè, scusate, un attimo di cosa, vabbè. Allora, detto questo, ci sono dei risvolti, ragazzi, la questione legata al fatto che alcune delle loro società sono solventi, cioè hanno un sacco di soldi e l'hanno dichiarato post uscita di SEM, quindi questa è una dichiarazione vera di cui ci possiamo fidare, sembrerebbe addirittura che ci siano proprio fondi di oltre 3 billion proprio su FTX. Insomma, forse questa curatela fallimentare, forse questo capitolo 11, chapter 11 di questa azienda non è poi così spoglio. È vero che c'è la questione dell'hacker, però anche loro lì hanno indicato a tutti gli exchange di bloccare quello che l'hacker gli ha preso e di annullare tutte le transazioni e di mandarglielì sui wallet loro. L'hanno richiesto, probabilmente vedremo chi lo farà, secondo me no, perché lì c'è lo zampino, secondo me, di tante cose da valutare. Per ogni anni massima staremo a vedere questo capitolo 11, se effettivamente ha delle capacità magari di rimborso superiori anche per i piccoli creditori. Loro dicono che in questo momento ci sono tantissimi billion di creditori istituzionali che potrebbero in effetti essere già sistemati. Comunque l'avvio e la vendita di tutte queste aziende provocherà probabilmente una svendita in un momento non troppo positivo, quindi una svendita che sicuramente sarà negativa di tutte le controllate di FTX e vedremo insomma quanto soldi recuperano ragazzi per liquidare poi gli eventuali creditori. Quindi sarà un evento che terremo sotto stretta osservazione. Passiamo alla questione invece di Bitcoin, andiamo a vedere quelli che sono i nostri tool standard, vediamo anche Ethereum oggi ragazzi, ok? Vediamo anche Ethereum, vi faccio vedere Nasdaq e una concomitanza tra la chiusura dei cicli di Nasdaq in questo istante e quelli di Bitcoin in questo istante. Dopodiché ci giochiamo la cartuccia del rally di Natale o la spacca perché se non va lì poi non c'è più e questo ci sta come vi dicevo la volta scorsa. La situazione generale e contestuale delle cripto è molto delicata ragazzi perché siamo in un contesto veramente molto delicato quindi dobbiamo andare attentoni e stare molto attenti a quello che capiterà proprio nei prossimi giorni ragazzi. Quindi mi raccomando su queste cose non vi demoralizzate in una fase del genere. Non vi demoralizzate perché il gioco è sempre quello di far allontanare il parco buo il più possibile proprio durante queste fasi. Quindi voi magari non investite, state buoni, state buoni come diceva il buon Maurizio Costanzo ma non toccate niente però informatevi ragazzi, studiate e se siete nuovi nel settore studiate ora, ora, studiate ora, va bene? Non quando arriverà la burran e poi siete in ritardo. Studiate ora il settore che è molto importante. Formatevi in questo momento perché è così che si costruiscono le cose migliori ragazzi. Quando ci sono i bear market e le cose vanno malissimo voi qual è il momento di formarvi, ok? Perché è la cosa principale. Io l'ho sempre fatto ragazzi, ha sempre funzionato. Io vi dico, no, vabbè, per me è funzionato. Allora, questa struttura qui è una clause teorica di una specie di ciclo settimanale di Bitcoin. Vedete questa struttura che sta andando down e sta chiudendo questa fase. Ora, questa ciclicità ha un minimo in clause che potrebbe anche essere aggiornato a breve, proprio al di sotto dei 15.008, mentre abbiamo un minimo assoluto di Bitcoin a 15.632. È un minimo molto basso, questi sono i prezzi di Bitstamp, però, in sostanza, in questa zona, anche dove siamo adesso, intorno ai 15.008, ragazzi, prima erano a 15.008, è un doppio minimo. Quindi tutta questa fase qui è un nuovo mensile che però, vedete, stenta con grande difficoltà. Dovremmo anche capire se in effetti il mensile non lo va ad allungare, a chiudere qui, però qui siamo già a 39.00, siamo molto, 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 molto lunghi. Non so. Io, al momento, valuto nei cicli più piccoli, proprio perché in questa fase di volatilità non mi va di andare a espormi in un certo modo. Ovvio che tanto operazioni lunghe non se ne sono fatte ancora. E quindi il problema è solo di natura teorica, perché poi non si va. Allora, la struttura dell'eventuale Nasdaq 100, per una correlazione che è un po' è venuta anche meno, comunque in queste fasi, portava proprio, anche in questa fase qui, vedete, alla chiusura di questa struttura ciclica che era un mensile di Nasdaq 100 e sta facendo, sta seguendo proprio ancora una volta, magicamente, oserei di dire, questa struttura. Ora, l'unica possibilità di avere il fatidico rally di Natale, questa è la zona, questa zona qui, no? La zona dove potrebbe avvenire un rally di Natale, Nasdaq è proprio la ripresa da questo mensile nuovo, cioè quando e se questo mensile chiude e Nasdaq prende a fare una roba così, allora noi avremo la possibilità di avere un rally di Natale. Se questo non avviene, chiuso tutto quanto, nessun regalo per Natale, Babbo Natale, povero, e soffriremo in silenzio davanti a una bottiglia di spumante la notte del cenone, perché non ce ne sarà per, proprio, non ce ne sarà, ragazzi, se non riusciamo a vedere una cosa del genere, perché siamo già molto, molto bassi. Quindi, in concomitanza con quello che abbiamo visto su Nasdaq, questa cosa potrebbe avvenire su Bitcoin proprio entro qualche giorno. Quindi, se Bitcoin chiude questa fase di riposo e poi inizia una fase long, come vi dicevo, un'inversione di trend, io ci proverò andando long per non fare un accumulo da qui ai prossimi 74 anni con le invenzioni del buy and hold in un mercato del genere, ma andare long in questa fase, perché la possibilità di un cambio trend c'è ancora. Poi è ovvio quanto dura dura, quindi se non dura chiudiamo e portiamo a casa un po' di profitto, che in un contesto del genere ci serve molto, e dopodiché si valuteranno una serie di cose, perché poi a volte i mercati cambiano le carte in tavola proprio mentre siamo noi in atto e ci accorgiamo che c'eravamo dimenticati il segnale X e il segnale Y, non è proprio per questo che bisogna ragionare a step e a fasi, ragazzi, sui mercati. Andiamo a vedere Ethereum, invece che cosa sta combinando, lui un po' in difficoltà in questa fase, anche perché l'agro è iniziato a vendere, l'agro di FTX vende un po' di Ethereum, ma niente di comunque grave, e se vedete identica la struttura legata a questo minimo di Bitcoin, è semplicemente questo il minimo molto più lontano di Ethereum. Adesso vediamo un po' anche la questione di Ethereum, perché per esempio 27 giorni per Ethereum o per un mensile, se il mensile è iniziato qui, sono pochi. Quindi se questo mensile dovesse allungarsi, ci poteva stare anche oggi o domani, però deve fare un minimo stasera, domani, massimo. Altrimenti questa è una figurazione ternaria che è collegata a questo ciclo e quindi a questo punto sarebbe una cosa del genere, qui però era così. Va bene, quindi sarebbe una formazione ternaria a questo punto, in una situazione così, questo è stato un minimo molto importante. Su Ethereum ho condiviso ieri in Academy una super analisi, dove indicavo che probabilmente il ciclo annuale iniziato di qui indica grande pericolosità proprio nei prossimi mesi, perché dopo una fase di rimbalzo, che teoricamente dovrebbe appunto invertire questo trend per un po', poi però dovremmo avere una serie di difficoltà, perché proprio questo punto che vi ho inserito qui dovrebbe essere la chiusura del prossimo annuale teorico di Ethereum, cioè da qui, che è un po' corto questo qui, fino intorno a giugno, io direi estate 2023. Ora, se questo è l'annuale nuovo di Ethereum e qui ha fatto il massimo, ci salvi chi può, perché semplicemente, ragazzi, qui vedete com'è importante avere un eventuale rally in questa fase per capire un po' se respiriamo, perché se poi quello è l'annuale bisognerà vedere. Insomma, ragazzi, nulla vieta anche all'annuale di fare un massimo nella seconda parte, anche, insomma, ci può stare, essere anche in barra di congestione, però se l'annuale di Ethereum è iniziato qui, come sembra, e finisce verso l'estate del prossimo anno, e noi iniziamo a scendere troppo vicini a questo minimo, ricordiamoci che Bitcoin c'è sotto il minimo di giugno, la situazione diventa molto negativa. Tanto è vero, ragazzi, che io, che adesso sto giocandomi la carta del rally di Natale, quindi un'eventuale inversione vado long per trattare l'ally di Natale, poi da lì in poi ragionerò, già vi anticipo anche su alcuni short selling, su eventuali criptovalute, ma ne parleremo, qualora invece dovesse essere molto debole la fase di up eventuale di cambio di trend, perché la situazione non è per niente rosa, e ancora una volta i dati non indicano belle cose, e già erano prima così, prima del crash di FTX, adesso sono peggiorati, però nulla vieta appunto che il mercato vada a fare una ripresa da qui, ai prossimi due settimane, dandoci un po' di speranze, poi che siano false speranze, o meno, lo vedremo, nelle prossime settimane, non è che possiamo anticipare, e prevedere il futuro, ci sono quelli che prevedono il futuro, ancora adesso nel 2022, e ne escono come funghi, lo so, è sempre così, va bene, allora detto questo, noi ci vediamo domani al super webinar, alle ore 18, vi aspetto, faremo una cosa bomba, venite preparati, venite con carta, penna, e seduti su una sedia, perché è inutile che fate un webinar di quel tipo, in giro in autostrada, per le macchine, perché non capirete, una cipa, io vi ho avvisato, ciao a tutti ragazzi,